Musica Ogni tipo di biglietto corrisponde a cerchio, x, quadrato e triangolo Ah non l'hanno messo il triangolo a sto giro, ancora solo tre, va bene Quindi cerchio, mango, x, banana e quadrato il cocco, ok E facciamo sempre meson Aspetta Ok, devo ricordarmi che il cocco è quadrato Ok, merda Ok, ce la posso fare Devo solo prendere il ritmo giusto No, non riesco a ricordarmi che il cocco è il quadrato Col cazzo che mi faccio col piede al mango Voglio fare un sacco di punti No Ce la posso fare, dai Aspetta No Allora Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ok Oh comunque L'altro oggi sta facendo un bel po' di punti Che tra l'altro gli schemi sono sempre gli stessi Cambia continuamente l'ordine in cui appaiono Ma vabbè dai Ho fatto meno punti dell'altra volta perché è passato un po' di tempo Però comunque Sempre quasi 9000 punti li facciamo Gli snack saranno in vendita per poco tempo prima dello show Eh, i snack Sempre solo tre tasti, ok Forza, forza Vi voglio lanciare in faccia un po' di cocco La banana Banana Mango Cocco Cocco mango Banana, banana, banana Cocco, cocco Banana Cocco, mango, mango Mango, cocco, cocco Mango, mango 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 Cocco, cocco, cocco Cocco, mango Cocco, cocco Banana, banana Aspetta, cocco Mango Ah no Cocco Banana, cocco Mango Cocco Banana Aspetta Banana Eh no In faccia come l'altra volta Aia La banana Vabbè Sempre 9000 punti anche qui E ora il nostro audace duo di proiettili Questo qua ormai l'ho capito di gioco Quello di Gia e Alex invece è sempre fastidioso Aspetta Aspetta Non provate a farlo a casa È pericoloso Bambini Mamma mia E sto prendendo tutti i centri Sono bravo Sono diventato bravo rispetto alla prima volta che abbiamo fatto questo minigioco Dai Sono contento Oh no Quello gira Quello gira Aia che dolor Dai alla fine Vabbè però Siamo stati bravi Siamo stati bravi Dai Non mi posso lamentare a questo giro Ma quanti punti devi fare Cioè cosa devo fare per arrivare A 5 stelle in questo minigioco Ma seriamente Neanche la cpu riesce ad arrivare a 5 stelle A questo gioco Bene Se posso attirare la vostra attenzione Sulla corda pericolosamente tesa Vorrei presentarvi Gloria e Melman Oh fantastico Allora Tanto è sempre indifferente Quale dei due scegli Ticchete ticchete ta Olè Whip Per un attimo Ho pensato Gli avrebbe preso il culo Te lo giuro Mortino Olè Aspetta Passato senza troppi problemi Ciao Gloria Ci vediamo a metà strada Stupido Mortino Sto arrivando Gloria Per favore aspettami Aspetta che prendo Balloncino Arrivo Aspetta Ok Ho sia evitato il bastone Che il mango Ardino Vieni giù Muy favoloso Pam pam Quattromila punti Questa è facile A lui piace Ma come Ma che cretiveria Ma dai Allora Questo è quello Che continuiamo a sbagliare Premi per rilasciare E volare in aria Ok Ci sta Tieni premuto Per aggrapparti Agli altri Questo deve attivarlo Anche l'altro compagno Perché se no Non funziona Premi cerchi per eseguire Una capriola in aria Ok Facciamo Gia Aspetta Che mi devo aggrappare Su uno Che palle Uno Due Ma perché Non riesco a beccarne uno Uno Due Uno Due Tre Aspetta che prendo Alex Alex Prendimi Eh vabbè Alex Prenditi Dai Stupido leone Eh vabbè Dai Alex Svappa al culo Ho capito Me la faccio da solo Uno Due Questo minigioco Non riusciremo mai A farlo bene Abbiamo capito Però Quattro stelle A sto giro Eh Mica male Mica male Rispetto ad Alex Che è solo una Au revoir Pari Miei amici I vostri artisti Ancora uno Gia e Alex Cosa vuol dire ancora uno Salman e Gloria Marti e Stefano Vitali e Re Giulie De Noire Bravo Bravo Bonne Noire Svassato Svass6 Svassato Svassato Autore dei sorrisi